I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato un pregiudicato palermitano domiciliato a Trapani in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani per i reati di rapina ed estorsione. Il 44enne deve spiare una pena di 3 anni e 4 mesi per reati commessi a Trapani già nell'anno 2022, quando era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori, ovvero le vittime, a seguito delle continue richieste estorsive e rapine che lo stesso avrebbe commesso così come documentato dai militari operanti. Pertanto, a seguito delle formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria.